Oggi sicuramente la discussione non è euro sì, euro no, chi è europeista e chi non è europeista. Oggi vogliamo cominciare a parlare di misure alternative per far volare il nostro Paese, per cominciare di nuovo a far sviluppare il nostro Paese. Ed è chiaro che la condizione fondamentale per riuscire a mettere in pratica nuove idee economiche per questo Paese è un governo dell'Italia che in sedi europee, in sede internazionali si faccia rispettare. Io dico soltanto questo, prima di qualsiasi misura economica, prima di qualsiasi scelta politico-economica dobbiamo pretendere che il governo italiano nelle sedi comunitarie e internazionali rappresenti gli italiani e i loro interessi e non gli interessi di qualche lobby o di qualche altra nazione. Quindi questo vuol dire anche accantonare l'idea del referendum sull'euro, se lei dice che il problema non è euro sì, euro no, e scegliere un approccio diverso, più pragmatico, verso il mondo finanziario europeo? Noi abbiamo sempre detto una cosa, per indire quel referendum occorrerà un anno e qualche mese. In quell'anno e qualche mese chiederemo ai tavoli europei di fare gli interessi anche degli italiani. Chiederemo agli altri paesi di cominciare ad eliminare trattati scelerati come il fiscal compact che taglieranno altre risorse alla sanità, al welfare italiano. Chiederemo di rimettere in discussione i parametri come quello del 3%. Chiederemo di rifondare un'Unione europea su principio di solidarietà, soprattutto aiutandoci sull'immigrazione. Se questo non cambierà, se non vorranno cambiare nulla, allora non saremo noi a mettere in discussione l'euro, a mettere in discussione l'unione monetaria o a mettere in discussione i trattati dell'Unione europea. L'Europa non esisterà più, si autodistruggerà se non cambia. Lo stimolo di oggi non è in una sola direzione. Chi interviene oggi porta delle proposte su vari fronti. Ne facciano tesoro anche le istituzioni governative di questo paese. Il governo Movimento 5 Stelle, con la legge elettorale che è stata rinviata, il rischio del proporzionale, l'ambizione del 51% è un'ambizione credibile o poi alla fine dovrete trovare delle convergenze all'interno del nuovo Parlamento? Io le dico questo, prima di tutto non c'è nessun patto con nessuno, tantomeno con la Lega, lo smentisco per la milionesima volta. Ma per come si sta mettendo lo scenario, gli italiani avranno sotto i loro occhi la situazione. Il centro-destra è frammentato e spaccato. Anche se si dovesse mettere insieme dopo le elezioni politiche non sarà in grado di governare questo paese. Il centro-sinistra è frammentato in mille pezzi e si sta spaccando sempre di più. Noi siamo l'unica forza politica compatta che può ambire a governare questo paese. Le attuali guerre interne di destra e di sinistra favoriranno senz'altro il movimento alle prossime elezioni politiche, perché gli italiani non vogliono regalare ancora una volta il paese a un centro-destra modello guerra Berlusconi-Fini e un centro-sinistra modello guerra Mastella-Prodi, perché di questo stiamo parlando.